che facessi tu per la fatica, che fatica facevi? un pescatore, quanti anni fa ha cominciato il pescatore? era quando avevo 10 anni, già cominciato e ho preso il papà, prima di quando ero giovane pescavano tutti quanti? allora, ma gestivano 80 pescatori, non c'era la cooperativa, non c'era la cooperativa e questa è la cooperativa? eh, è la cooperativa, ieri ho pagato i verni 120 milioni, certe volte mi arriva a mano, arrivai con pochi contributi e me le avevo messo ora era il paese e mi troverai prima e bella che i pescatori erano amici uno con il lato erano anche pochi, ma infatti questi erano amici, quando uno che aveva... da me dicevo, vieni un po' di pescattolo, che si era in arrivo per i pescatori c'è uno pescatore che, dopo ha aiutato a fare compi di marco grosso e come? non c'è stile! e qui lo canna che 2 pesche meccaniche? è calato qui Dove c'è una mozzarella. Quest'anno noi a Gianna, per le ore, 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 le ore. A 150 metri, con Peppe e con il nonna, i resti li trovano male, faccia a faccia. La maggior parte, sempre io, quando venivano i pesci, 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 se ne stavano già. Quando venivano pesci, quando è preveni, niente di torsione, a due. I manganini sono venuti a fare qualcosa. E' giusto che la coppa. C'è giusto che la coppa. Come si chiama? I manganini. Pugentiamo qua, la parte, là, e si facciamo così. E si è buona cosa.